Ciao a tutti, bentornati. Qui abbiamo un tema che è soprattutto interessante per i livelli B1 e B2 perché parliamo dei verbi che vanno insieme a una certa preposizione. E tutti gli studenti che si preparano all'esame di B1 oppure B2 devono di solito conoscere una certa somma di verbi che vanno insieme a una preposizione. E spesso ci sono degli esercizi tipo c'è una frase con un verbo e lo studente deve aggiungere la preposizione oppure mancano sia la preposizione ma anche il verbo. Quindi spesso gli studenti lavorano con una lista dei verbi più importanti per il livello. Ovviamente ci sono più verbi per il livello B2 ma comunque spesso gli studenti fanno fatica a studiare queste liste e cerco di aiutarvi con questo compito. Qui abbiamo un esempio di una lista dei verbi per il livello B1. La prima parte sono i verbi che reggono la cosa attivo e la seconda parte è quella che è da attivo. È comunque un'informazione che ci serve per fare una frase corretta ma non ci basta per saper usare il verbo in futuro. Ok, possiamo per un attimo ignorare i verbi che abbiamo appena visto e concentriamoci sulle preposizioni di questi verbi. Come mai? Perché sono le preposizioni che reggono il caso. Quindi dalla nostra lista per l'accusativo abbiamo E vediamo subito che troviamo la preposizione an sia nella lista dell'accusativo ma anche nella lista collettiva. Come mai? Ricordiamoci che tante preposizioni vanno sempre con un caso solo ma ci sono anche delle preposizioni che si chiamano wechselprepositionen in tedesco che a volte vanno con l'accusativo e in altre situazioni vanno con l'attivo. Sono quelle nella parte verde e an la troviamo proprio qui quindi se abbiamo un verbo con an oppure con un'altra wechselprepositionen dobbiamo sempre cercare nel dizionario per capire se va insieme all'accusativo oppure al dativo. Come possiamo continuare con lo studio? Per esempio possiamo fare una lista col verbo poi la preposizione insieme al caso e poi la traduzione. Però c'è un altro problema perché spesso le persone dicono guarda io mi ricordo cosa vuol dire il verbo mi ricordo magari anche il caso però non mi ricordo la preposizione giusta. E questo è basato sul fatto che spesso una certa preposizione non sembra logica oppure non sembra una scelta logica spesso una combinazione che suona giusta oppure sembra logica per rimadre la lingua di una lingua suona completamente spagliata oppure stupida per rimadre la lingua di un'altra lingua perché non ogni lingua usa le stesse combinazioni di parlare di un certo concetto. Una cosa che possiamo fare è semplicemente di imparare a memoria i verbi più la preposizione. In tanti lo fanno anche però non è necessariamente una soluzione per tutti perché quando una cosa è imparata rimane sul lato teorico spesso la dimentichiamo subito dopo l'esame oppure forse anche già prima. Per capire meglio quindi dobbiamo tuffarci proprio nel sistema e cerchiamo di capire cosa hanno in comune le combinazioni e come esprimono i concetti. C'è una categoria abbastanza grande dei verbi che vanno insieme a MIT e anche insieme a UBA. sono spesso dei verbi che in qualche maniera vogliono dire parlare e con MIT aggiungiamo una seconda persona che lo fa insieme alla nostra persona quindi è una cosa reciproca come parlarsi, discutere, litigare, eccetera. Se invece l'altra persona è presente serve però non fa la stessa cosa non possiamo più usare MIT quindi CON ma abbiamo un presso quindi BY come lamentarsi oppure informarsi. invece per il tema usiamo UBA SOPRA oppure anche VON DI quindi ich spreche mit einer Person über un tema parlo con una persona sopra un tema poi c'è anche la parola FÜR PER per parlar di un concetto quindi sich entschuldigen FÜR una Sache scusarsi PER una cosa oppure sich treffen FÜR oppure zu etwas incontrarsi PER fare una certa cosa Non tutti questi concetti sono sempre logici quindi a volte ci serve un po' oppure anche tanta fantasia per capire l'immagine che trasmettono E UM per esempio come preposizione vuol dire intorno Possiamo immaginare qualcuno che fa i suoi giri intorno a una cosa e la vuole guardare da tutti i lati per non perdere a qualcun altro BUT NUM per esempio sarebbe chiedere una cosa e questa cosa la vogliamo così tanto che facciamo i nostri giri SISPÖ WER UM sarebbe candidarsi per un posto questo posto lo vogliamo noi quindi facciamo i nostri giri per non perdere questo posto a qualcun altro invece SICH BEVERBIN BY sarebbe candidarsi presso una ditta oppure una persona oppure SICH KÜMMERN UM prendersi cura di qualcuno quindi se siamo seri con questo con questo compito facciamo i nostri giri intorno a questa persona per non avere un rischio qui abbiamo altri esempi per FÜÖ quindi per in italiano come SICH ANMELDIN FÜÖ un kurs e scriversi per un corso con ANM ci vuole di nuovo un po' di fantasia ANM viene tradotto come A oppure anche ADOSSO un tipico esempio è ANDERVANT al muro in più abbiamo qui la nostra preposizione che va insieme all'accusativo ma anche al dattivo guardiamo gli esempi con l'accusativo tutti questi verbi parlano in qualche maniera di un pensiero una cosa mentale EINAN AN RICORDARE DENKAN AN PENSARE GLAUBAN AN CREDERE GEWÌNEN AN ABITUARSI quindi possiamo immaginare noi che guardiamo un muro dove si trova il nostro pensiero la nostra idea ovvero guardiamo verso questo muro perché abbiamo un accusativo che parla di un movimento quando abbiamo le nostre wechsel preposizioni invece per TEIENEMEN che vuol dire partecipare è un AN che va all'attivo quindi ovviamente TEIENEMEN non è più un pensiero è una cosa che facciamo attivamente quindi siamo arrivati al nostro posto dove succede come detto prima a volte serve un po' di fantasia ma l'importante è capire il concetto la nostra preposizione AUF vuol dire SU quindi parliamo di un tipo di superficie antworten AUF sarebbe rispondere a qualcosa possiamo immaginare di aver ricevuto una lettera oppure anche una mail e la nostra risposta la mettiamo sopra quindi una risposta sopra l'altra AUF PASSEN AUF sarebbe badare oppure anche prendersi cura di una cosa magari per vedere bene per sorvegliare bene la scena la dobbiamo vedere da sopra oppure anche SICH verlassen AUF fidarsi di una cosa noi siamo seduti su questa superficie magari in mare e dobbiamo fidarci di questa superficie per non morire la nostra preposizione AUF possiamo tradurre come DA oppure DI in qualche maniera fuori da qualcosa quindi BESCHDEEN AUF sarebbe consistere DI ovviamente un concetto più grande è fatto di pezzettini piccoli che insieme creano questo concetto grande invece la preposizione FON sarebbe staccarsi da qualcosa tipo via da qualcosa trennen von separarsi gehören zu è il contrario appartenere a qualcosa quindi fa parte di una cosa SICH VERLIEBEN IN è innamorarsi e questo IN vuol dire IN oppure dentro come concetto quindi possiamo immaginare magari un cuore come simbolo dell'amore che si trova ovviamente in un corpo FRAGNACH invece è chiedere di qualcuno oppure qualcosa e NACH vuol dire dopo quindi chiedere dopo un tema è un po' strano come concetto e ci vuole un po' di fantasia per immaginare una scena forse possiamo immaginare la cosa dietro di noi l'abbiamo già passata quindi non la vediamo più si trova dietro di noi e fuori dalla nostra vista e così chiediamo dopo di averla passata una spiegazione stupida però come si dice sempre se una cosa è stupida ma funziona non è stupida forse ora abbiamo capito come funzionano questi concetti abbiamo meno problemi di scegliere la preposizione giusta però quello che ci serve come l'ultima cosa sono gli esempi perché la regola che abbiamo messo non ci aiuta tanto quando dobbiamo parlare e non abbiamo tanto tempo per ricordare una regola se troviamo delle frasi interessanti possiamo avere un esempio del verbo insieme alla preposizione in più il caso tutto in un modo usato non come teoria ma come esempio pratico e così ci rimane più facilmente come regola per ricordare questa cosa quando la dobbiamo usare un modo per esempio di scegliere una frase come esempio e magari di usare la preposizione e di ripeterla come suono in un'altra parola in questa frase come reden mit e reden über quindi la persona e poi il tema oppure mettiamo insieme qualcosa di opposto tipo trennen separarsi e poi innamorarsi oppure prendiamo una scena proprio personale magari una persona che parla della propria vita in questo caso il nostro Paolo parla della sua esperienza lavorativa e mette insieme un sacco di verbi insieme alla preposizione proprio basato sulla propria vita per ricordare meglio questi esempi ovviamente possiamo usare delle scene diverse per ricordare dei vocaboli diversi questo qui è una scena della nostra Giovanna che fa un altro lavoro e quindi usa altri modi di esprimersi e qui alla fine abbiamo un piccolo test per vedere se vi ricordate le preposizioni per ogni verbo ho lasciato i colori che ho usato prima magari vi aiuta a ricordare meglio ovviamente mettere dei colori diversi è un metodo per ricordare una cosa però ovviamente ognuno è libero di scegliersi un metodo che funziona per lui ciao alla prossima